Ho potuto visitare questa mostra incredibile, incredibile per il suo contenuto e incredibile per come viene presentata, per come riesce a far entrare nel tema oggetto di questa edizione, stuscitando riflessioni in tutti, anche in chi ha avuto la fortuna dei maestri di incontrarli, talvolta senza neanche rendersi conto subito del fatto che fossero maestri. L'etimologia di maestri è straordinaria perché indica non qualcuno che insegna, ma indica il più grande. E quindi perché possa essere un maestro nel vero senso del termine c'è bisogno anche della sua capacità di suscitare la volontà di emulazione. Quanto è attuale, quanto occorrerebbe ancora avere figure come quella di suo padre al giorno d'oggi? Io penso che ci siano, penso che siamo tutti un po' facilmente presi non tanto dal pessimismo quanto dallo sconforto, anche perché lo sconforto è facile, perché non chiede di impegnarsi, anzi legittima non impegnarsi. La speranza è più difficile perché la speranza invece invita all'impegno. Quando papà stava svolgendo la sua attività non è che non ci fossero persone che dicevano non ci sono persone con valori, con l'onestà e tutto, quella litania, quel piagnisteo del responsabilizzante c'è sempre stato. Anche oggi abbiamo questo pensiero, però se ci guardiamo in giro senza il filtro del nostro pessimismo vediamo intorno a noi tantissimi esempi virtuosi. Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, un uomo che non si è piegato alle richieste di chi gli voleva far fare un lavoro non ben fatto, a chi gli chiedeva di non guardare esattamente tutto, ma facendo della rettitudine, della verità, il suo orientamento, la sua scelta di vita è andato avanti sacrificando anche la sicurezza e la libertà personale. Una mostra che ricordiamo rimane aperta sino al 20 di ottobre, una proroga dovuta perché le richieste sono tantissime. Sì, è andata così, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, probabilmente adesso ci dovremmo ripensare sulla durata della mostra perché basta riprendere quelli che sono in attesa, sapere che una mostra del genere oggi fa mille persone in una giornata, è chiaro che probabilmente dobbiamo anche ripensarla e ripensare la sua estensione, siamo lieti di poterla prorogare, dire che qui a Il Leggio arrivano ogni anno 45.000 persone in una strada che termina Il Leggio, non si può andare oltre, bisogna venire per forza Il Leggio, beh anche questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione.